la rincorsa di Davi Schiba fortissimo, bravo Picci miracolo di Picci Giannelli per Riclischi, le mani del muro si arrampica Zimmerman la ricostruzione di Davi Schiba questa volta la fa, Leon difende dopo il tocco del muro, primo tempo di Flavio Federici la tiene in vita, l'attacco di Monza in controtempo, Picci, Nelli incredibile Giannelli ancora per Leon Leon, sul da Picci bravo Picci questo punto è tuo che ha difeso e ricevuto l'impossibile Alessandro Piccinelli sugli scudi, si va a prendere il 5 con tutti